Sono le 10.41 minuti e 44 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Io sono felice di dare il benvenuto all'interno della mia trasmissione a Maurizio Pagliassotti in collegamento con noi. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao a tutti e tutte. Allora Maurizio, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Perché? Intanto voglio inquadrare. Maurizio Pagliassotti è un giornalista, un reporter, da anni segue i flussi e i passaggi dei migranti sia in Piemonte ma anche nel mondo. Ha un'esperienza anche sul campo raccontata all'interno di questo libro in particolare, La guerra invisibile, un viaggio sul fronte dell'odio contro i migranti, uscito un anno fa, il 28 marzo 2023 per i Naudi, per voi che ci seguite sul Digitale Terrestre ma anche su rb.it. Questa è la copertina che faceva seguito al libro pubblicato nel 2019 per Volati Boringhieri, ancora 12 chilometri, migranti in fuga sulla rotta alpina. E' un racconto fatto, dicevo, in prima persona perché Maurizio ha seguito quella che viene chiamata anche, diciamo, a volte inopportunamente la rotta balcanica, ma insomma in maniera concreta, diciamo, Maurizio ha seguito, ha fatto quel percorso e ha raccontato in maniera molto lucida ma anche spietata, vorrei dire, insomma, quel percorso. Quel libro che è un libro che suggerisco di leggere assolutamente per, insomma, per smontare un po' di sovrastrutture terrificanti che abbiamo nella nostra testa rispetto alla vita delle persone in viaggio, e molto spesso questo viaggio dura anni per quanto riguarda le persone di cui stiamo parlando. Questo libro, che era stato, che ha vinto anche tre premi importanti, diventa anche un videogioco. E già questo, Maurizio, insomma, mi mette, diciamo, in difficoltà rispetto al racconto che possiamo farne, perché parliamo di una tragedia quotidiana e continua che però, diciamo, viene pensata anche per le giovani generazioni, lo possiamo dire, Maurizio, per provare ad entrare ancora di più dentro, come dire, quello che anche qui da queste parti raccontiamo praticamente tutti i giorni, che sono le migrazioni. Perché l'idea, insomma, tu ne parlavi su domani, già un anno fa, diciamo, con un articolo molto lungo e molto approfondito. Perché pensare, come dire, a realizzare un videogioco di questo racconto, diciamo, che è quello della guerra invisibile, del tuo libro? Maurizio. Allora, sì, ti ringrazio per questo tempo indicativo presente che hai utilizzato io. Diventa, diciamo che potrebbe diventare, ci sono buone possibilità che potrebbe diventare un videogioco. Sì, allora, dunque, questa scelta che è abbastanza spericolata e quantomeno è insolita in Italia, soprattutto per un libro che ha alle sue spalle una storia così tragica, deriva dal fatto che io sono convinto di essere una bollicina che si muove dentro una bolla. E questo deriva dal fatto che sono circa della mia storia, nonché tutto il mio percorso professionale regato alle migrazioni, che ormai ha sei anni, ha visto come ambiente di confronto persone che ne sapevano molto più di me, sempre. Le mie presentazioni, i miei incontri, le mie conferenze, le mie chiacchiere, dei posti più piccoli, dei posti più grandi, hanno sempre questa caratteristica. Io parlo, arrivo alla fine dell'incontro, mi si avvicinano persone che mi raccontano cose che io non so e che ne sanno molto più di me. Allora, questo libro e in generale tutto ciò che ha a che fare, io credo, con la letteratura che Walter City definisce dell'impegno, non può rivolgersi alla bolla. Io sono un uomo del Novecento e credo ancora che noi al massimo possiamo intenderci come avanguardie che devono essere in relazione con, nel Novecento si diceva, con le masse, comunque con le persone normali. Questo non avviene, almeno. Per quanto mi riguarda, non avviene assolutamente. In particolare ho avuto questa percezione quando sono entrato nelle scuole e persino nelle università. I questionarii che faccio sempre compilare al termine degli incontri hanno questa caratteristica, questa frase tipica. Non ne sapevo niente. Adesso è assolutamente legittimo non sapere nulla della rotta dei Balcani, ancora meno della rotta alpina. Però non sapere nulla delle migrazioni quando frequenti un istituto superiore o le medie o l'università addirittura, dà l'idea che questo grande sforzo culturale che ci sembra di comporre, in realtà è arido, è sterile, non va da nessuna parte. Io parlo a me stesso, parlo a te, parlo a Radio Beckwith, parlo a persone che le sanno già queste cose. Allora, confrontandomi con il mio amico Samuele, che ha 14 anni, e chiedendogli tu lo leggeresti questo libro che ho scritto? Samuele mi adora, abita nel piano di sotto. E lui mi rispose candidamente di no. E poi gli dissi, ma se io invece questo libro lo trasformassi in un videogioco ben fatto, tu quantomeno lo proveresti? E lui mi ha risposto di sì. Da questo piccolo dialogo è nato un percorso che ha portato alla creazione di una squadra composta da degli sviluppatori critici nelle persone di Giorgio Catania, che è il project manager. Federico D'Ercole, giornalista e critico, e la Yonder di Roma, che è una casa di sviluppo di software gaming romana, ha portato alla creazione di questa piccola squadra, e adesso la faccio in sintesi, che dopo infinite discussioni su che cosa è sul piano etico un videogioco, perché appunto è abbastanza un crinale quel luogo dove ci stiamo muovendo, abbiamo partecipato al bando del Ministero della Cultura, della Cultura, relativo al settore game, e siamo arrivati terzi. Cosa che ci ha dato, con il nostro progetto ovviamente, la guerra invisibile, cosa che ci ha dato, come dire, un senso, una prospettiva, che da qualche parte, fra un anno, un anno e mezzo, quando si troveranno i fondi necessari, noi ovviamente non abbiamo una lira, e probabilmente questo progetto non ha alcun scopo di lucro, noi probabilmente entro un anno, un anno e mezzo, riusciremo a tirare fuori qualcosa, che farà parte, e chiudo, del grande settore ignorato in Italia, del serious game, cioè di una branca dei videogiochi, che si occupa di argomenti seri, molto seri, perché appunto vuole tentare di rompere lo schema della letteratura che parla, o di altre forme espressive classiche, che vuole parlare a se stessa. Maurizio, allora, io ti ringrazio per, diciamo, questa premessa che ci fa entrare dentro questo, questo esperimento, diciamo, insomma, io prima la davo per scontata, ma effettivamente, insomma, capisco che siamo ancora in una fase, diciamo, di lavorazione, di tutto, però tu mi hai condiviso anche alcuni materiali, che io ho provato anche a tradurre, e rispetto però a quello che, diciamo, in maniera molto forte, però sta dentro, diciamo, il racconto della guerra invisibile. Quando fai qualcosa, qualsiasi cosa pur di scappare, tornare indietro non è un'opzione. Questo, diciamo, se vogliamo, è il, come dire, il punto di partenza, se vogliamo, di questo videogioco che esce dalle pagine, diciamo, del tuo libro. Una corsa contro il tempo, si legge nel concept, un viaggio che è una sfida con nessuna possibilità di tornare indietro attraverso un paesaggio sconosciuto e luoghi pericolosi. Giochi come se fosse un viaggiatore senza una specifica identità culturale. Cioè, intanto state lavorando, diciamo, non su una identificazione, diciamo, del protagonista tipo del gioco o, diciamo, avete in mente anche di caratterizzare, se vogliamo, anche, boh, dal punto di vista culturale, se vogliamo, o di provenienza geografica, diciamo, i protagonisti di questo gioco. So di non avere, diciamo, un vocabolario, diciamo, appropriato e opportuno, per cui mi scuso con te, però, insomma, mi sembra di capire che il più possibile bisogna provare a identificarsi, diciamo, se si entra dentro questo gioco, no? No, guarda, stai ponendo delle domande veramente interessanti che non mi sono mai state fatte. Dunque, quello di cui accenni tu sono delle discussioni che io, che noi, all'interno della squadra, abbiamo avuto per mesi e che io apro a te e a coloro che ci stanno ascoltando. la conclusione che abbiamo raggiunto è questa. Esistono delle estetiche e delle, ehm, delle locuzioni, ehm, nonché delle storie che formano degli schemi mentali. Quindi, avremmo potuto dire, questo è Ibrahim che parte dal Pakistan e deve raggiungere Berlino. ok? Certo. Allora, abbiamo deciso su basi completamente non statistiche né scientifiche ma probabilmente personali che questo ci avrebbe nuovamente portato dentro la bolla. Quindi, nuovamente, quello che ha l'intera parete della libreria coperta di libri su questo tema probabilmente avrebbe comprato questo libro, questo videogioco per il figlio. al momento l'idea è quella di creare un'astrazione totale, completa, cioè a-identitaria da un punto di vista umano e da un punto di vista geografico. La connotazione deriverà dal piano simbolico che si incontra. Cioè, pensiamo un uomo o una donna ancora peggio, poi magari capiremo come stiamo costruendo i personaggi. un personaggio X che parte dal punto A e deve raggiungere il punto Z lungo il quale percorso lungo il quale incontra però i fattori aderenti che fanno parte della realtà migratoria. Quindi i trafficanti, il poliziotto, i cani che ti corrono dietro, il frontex con un altro nome. Il meccanismo è esattamente lo stesso. Cerchiamo di chiamarci fuori dai simboli della bolla da un punto di vista lessicale e da un punto di vista geografico. Quanto questo sia una buona idea non lo sappiamo. È veramente un esperimento totale che non è mai stato fatto in Italia. Ma infatti... Se non una cosa molto piccola. Non so se soltanto in Italia perché effettivamente è un tentativo che ci permette come dire di entrare dentro il mondo delle migrazioni diciamo da un altro diciamo da un altro lato però quello che mi colpisce sempre provando anche a leggere anche i contenuti che inquadrano il gioco che tu mi hai condiviso in questi giorni prende spunto ancora una volta però diciamo dall'elemento fondativo però del tuo racconto così come della vicenda diciamo umana e quotidiana di cui parliamo che è quella delle storie perché innanzitutto si legge non chiamatele migranti e tu su questo diciamo diciamo spendi molte pagine diciamo anche all'interno del tuo libro il gioco è un mosaico di storie che si intrecciano il gioco assume il ruolo del protagonista in una di queste storie a volte simile ad altri personaggi lungo il viaggio ogni personaggio ha una storia unica da raccontare o una opinione da esprimere al di là della retorica Maurizio diciamo al centro anche di questo esperimento diciamo legato al videogioco ci sono sempre le persone è inevitabile questo serve per non perdere il contatto dalla realtà o sto banalizzando troppo Maurizio no perfetto un'analisi totalmente perfetta allora il videogioco non sarà la riproposizione del mio libro anche perché io ho fatto il percorso al contrario ok quindi sono andato da ovest verso est probabilmente sarà un percorso geografico che si sposta da un in senso opposto però certo dentro ci saranno le storie reali di queste persone dietro dietro la composizione dei vari livelli perché un videogioco classicamente si compone per livelli di difficoltà che vengono superati e danno diritto all'acquisizione di spazi geografici ma tutti i videogiochi se noi pensiamo ai videogiochi degli anni 90 i primi quelli che hanno fatto il botto per la playstation pensiamo a tomb rider pensiamo a full metal metal gear solid pensiamo a resident questi sono tutti superamenti di difficoltà che danno diritto alla conquista di spazi geografici il fatto è che noi non ci mettiamo dei personaggi Lara Croft o Snake o altri personaggi anche di giochi più recenti ci mettiamo delle storie reali reali che io posso riproporre quelle che ho dentro il libro i due libri oppure delle nuove ricerche oppure delle nuove ricerche che possiamo condurre questo dipende da altri fattori però è veramente la riproposizione della realtà senza nomi stiamo tentando di fare questo su un piano game e intanto siamo quasi in chiusura di questa conversazione ma anche della puntata di oggi del meno due pagine al giorno ovviamente non ci sono delle previsioni temporali diciamo sull'uscita di questo lavoro di questo videogioco no? un anno un anno e mezzo un lavoro gigantesco che ha necessità di un sacco di fondi che ovviamente non abbiamo al momento ma anche noi siamo come dire siamo fiduciosi che si riconosca il valore culturale ci siamo posti almeno io mi pongo anche dei problemi da un punto di vista commerciale io non voglio che questo videogioco sia buttato sul mercato mi piacerebbe che fosse fuori dal mercato perché se finisce dentro una logica del mercato ci sono delle compromissioni che sono che si dovranno di cui si dovranno tener conto che non mi vanno quindi stiamo cercando di seguire la logica più difficile quella di avere finanziamenti che ci permettano di essere totalmente liberi fuori dal mercato una bellissima sfida insomma mi verrebbe da dire in bocca al lupo ma questo con affetto ovviamente non è una provocazione siamo praticamente in chiusura è inutile chiederti perché insomma questo aprirebbe come dire un versante per il quale io vorrei invitarti anche diciamo prossimamente a parlarne però insomma le guerre in corso diciamo sembra abbiano ancora una volta spostato un po' l'attenzione rispetto diciamo al fatto che comunque in mare su quelle rotte che tu hai raccontato e che racconti diciamo si continua a morire si continua a camminare insomma adesso tutto sembra focalizzato sulla minaccia iraniana e alla risposta israeliana qual è la tua percezione lo so che insomma in un minuto è impossibile però insomma te lo chiedo lo stesso Maurizio premesso che per me la questione migrazione rimane il tema di fondo dell'umanità certo dell'umanità di questo tempo dimensionalmente inarrivabile siamo pur sempre dentro la teoria delle catastrofi cioè che prevede che per uscire da una catastrofe molto grande si debba entrare in una catastrofe grandissima io auspico che vi sia la banalità delle ore 10.57 fortissima moderazione da tutte le parti perché il crinale nel quale ci troviamo mi spaventa molto e questo è una come dire uno stato d'animo condiviso anche da queste parti che raccontiamo dove raccontiamo ogni giorno insomma almeno in questa prima parte della giornata del nostro palinsesto proprio l'attualità in questo momento soprattutto Alessio Lerda con Play racconta quotidianamente proprio questo questo rischio ma intanto però adesso giungiamo noi davvero in coda io voglio ringraziarti Maurizio per insomma averci dedicato un po' del tuo tempo per raccontare lo sviluppo a livello game della guerra invisibile un viaggio sul fronte dell'odio contro i migranenti e i naudi di Maurizio Pagliassotti Maurizio grazie davvero per essere stato con noi e a presto spero a prestissimo intanto io vi saluto e vi ringrazio prossimo appuntamento domani via la notte e vi ringrazio